Il Coppa Valtellina è sempre più vicino per i tanti appassionati di motori, un appuntamento irrinunciabile fa gola e lo testimoniano le circa 100 iscrizioni pervenute nell'arco di 15 giorni. La corsa in agenda sabato 25 e domenica 26 settembre sarà valevole per la Coppa Rally di zona 2, ma non solo. Vi potranno partecipare coloro che concorrono alla Michelin Rally Cup di zona, così come i pretendenti all'area Italian Trophy, indetto dalla Sport Team Equipment. Inoltre saranno due memorial che verranno assegnati in ricordo di Eros Rinaldi, premio a chi realizzerà il tempo migliore sulle prove di Tirano. Il memorial Jessica Andreoli andrà invece al miglior equipaggio Under 25 nella sommatoria delle due speciali di Teglio. Dalla Repubblica Ceca sarà presente Filippo Mares, classe 91, già campione europeo junior, che sfiderà gli avversari su una Skoda R5. A cercare di rendergli la vita difficile ci penserà sicuramente il campione uscente Fabrizio Guerra, che con Salinetti si impose nel 2019. Al via Marco Gianesini, tre volte vincitore al Coppa Valtellina. In gara anche Gianluca Varisto, già proiettato alla finale di Modena. Presenza di prestigio per Marco Silva, che il Coppa lo vinse nel 2001. Sabato 25, dalle 10 alle 14 lo Shakedown. Alle 16.01 la partenza dalla prima vettura da Sondio in Piazza Garibaldi, lì domenica pomeriggio, si traranno le premiazioni. Le speciali da affrontare sono diventate autentiche e classiche per i realisti. Le prime due battezzate Berbenno con start d'aeree di scena sabato. Nella zona di Tirano troviamo le speciali 3 e 5, piscine, nome con le quali sono conosciute dagli appassionati di motori. Tracciato di ben 12,40 km. Teglio è nome scelto per le PS4 e 6, chiamata anche Carona, lunga 7,15 km. È impegnativa, tecnica e veloce. I piloti ci hanno dato fiducia, afferma il presidente di ACI Sondrio, Andrea Mariani. E noi siamo pronti a regalare loro una gara all'altezza. Abbiamo scelto uno staff importante per una gara che dovrà essere ogni anno più interessante e avvincente.